sui colli dell'astigiano l'uva è maturata il sole non le è certo mancato non vi facciamo vedere la vendemmia come festa o sagra secondo l'uso deplorevole di una volta ma perché ci proponiamo di ricordare ogni mese i lavori dei campi alla maniera del barba nera del sesto caio baccelli o del pescatore di chiaravalle non v'è immagine della vendemmia che trascuri le belle vendemmiatrici possiamo offrirvene anche questa volta dei nutriti grappoli a